Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Zuleya che si trova a cena insieme a Luce, sermine l'immancabile Betul, particolarmente affettuosa e grata nei confronti di Zuleya. Gaffur si unisce al gruppo e comunica la tragica notizia della morte di Umit, avvenuta in un incidente stradale vicino a una pericolosa curva sulla strada per Mersin. Il corpo di Umit è stato reso irriconoscibile dall'incidente ma è stato identificato grazie ai documenti che aveva con sé. Betul commenta freddamente che Umit ha avuto ciò che merita, mentre Zuleya si allontana con Luce. Sermine esprime il suo disappunto, sottolineando che Umit non è più utile per loro. Betul replica, indicando che almeno Zuleya se l'è cavata bene, ma entrambe sono visibilmente deluse. Ficheli e Fikret si trovano con il procuratore per discutere dell'incidente di Umit. Chiedono dettagli sull'accaduto, e il procuratore spiega che l'incidente è avvenuto in una curva pericolosa, notoriamente difficile per chi non conosce bene la strada. Fikret si interessa ai parenti di Umit, ma il procuratore informa che il padre di Umit è impossibilitato a prelevare il corpo a causa di gravi problemi di salute. Fikret offre quindi di occuparsi della situazione, e il procuratore acconsente, ritenendo che almeno il primario avrà una degna sepoltura. Il giorno seguente si svolge il funerale di Umit, con la presenza di poche persone, tra cui Fikret, Ficheli, Luce e Zuleya. Fikret confida a Ficheli che Umit ha arrecato danno a Zuleya e Demir, ma riconosce che era una donna che aveva sofferto per la mancanza della madre. Amava il suo lavoro e desiderava aprire una clinica ad Hamburgo. Fikret si sente in colpa per averla fermata, spingendola a cercare vendetta contro gli Yaman, e ritiene che la sua morte sia in parte responsabilità sua. Ficheli gli risponde che il destino è inevitabile quando il tempo concesso da Dio è giunto al termine. Luce, nel frattempo, entra in una pasticceria, dove tre donne discutono della gravidanza di Umit da Demir, della presenza di Zuleya al funerale e della prospettiva di molti uomini che vorranno avvicinarsi a lei. Luce, dopo aver udito delle voci sospette, cerca di mantenere la calma. Tuttavia, quando le rivolgono insinuazioni su una presunta relazione tra Fikret e Zuleya, perde la pazienza. Senza esitare, afferra la tovaglia carica di stoviglie dal loro tavolo e la scaraventa a terra. Rimprovera coloro che hanno osato infrangere la dignità e il dolore altrui, soprattutto quello di Zuleya. Successivamente, paga il proprio conto e risarcisce i danni causati prima di andarsene. Prima di partire, augura alle donne indiscrete di soffocare con il loro pranzo e di astenersi dal pettegolare ulteriormente. Luce, visibilmente agitata, raggiunge Ficheli e gli racconta dei pettegolezzi ascoltati, sottolineando soprattutto le insinuazioni su una possibile storia tra lei e Fikret. Ficheli, sconvolto, si chiede come possa esistere tanta malvagità e sottolinea il fatto che Demir e Fikret sono fratelli. Luce rivela che tali chiacchiere sono diffuse in tutto il paese e che è urgente fermare questi pettegolezzi per evitare che Zuleya ne venga a conoscenza. Ficheli concorda, assicurando che troveranno al più presto una casa dove stare. Nel frattempo, mentre Zuleya è in giardino con luce, la polizia arriva con una notizia sorprendente. Chiede se abbiano trovato Demir, ma il comandante informa che hanno arrestato il rapitore di Adnan, rivelando che non si chiama Kumali, bensì Durmush. Sani e chiede se è il padre di Uzum, ma il comandante smentisce, spiegando che il vero padre di Uzum è morto in carcere sette mesi prima. Tutti sono scioccati dalla notizia, e Uzum, sentendo la verità, si allontana piangendo. Gaffur trova Uzum in lacrime e apprende che la polizia ha dichiarato che Kumali non è suo padre, poiché il vero genitore è morto in prigione. Gaffur, sconcertato, accusa Kumali di averla ingannata. Tuttavia, quando abbraccia Uzum, Kumali le assicura di essere il suo vero padre e di non abbandonarla mai. Successivamente, Sani e si presenta alla caserma di polizia quando Kumali, in manette, esce tra due agenti. Lo affronta, sputandogli in faccia e rimproverandolo per aver giocato con i sentimenti di un'orfana. Inizia a picchiarlo, e i poliziotti le permettono di continuare. Il comandante la porta nel suo ufficio, dove Sani esprime il suo sdegno per il male inflitto a una bambina che aveva sviluppato un attaccamento. Infine, chiede del vero padre di Uzum, apprendendo che è morto in prigione durante il trasferimento in ospedale. Sani interroga l'uomo sulla sepoltura del vero padre di Uzum, ottenendo la risposta che è sepolto a malattia. Nel contesto aziendale, Betul chiede a Ergan documenti riservati, suscitando la sua irritazione. Lei esprime la necessità che lui obbedisca, sottolineando di detenere il comando lasciato da Demir, e gli vieta di discutere i suoi ordini. Dopo la sua partenza, minaccia di licenziarlo presto. Poco dopo, Fikret raggiunge Betul, la quale lo accoglie con entusiasmo e cordialità. Con gratitudine, le consegna un cofanetto contenente una penna elegante, suggerendo di utilizzarla per firmare documenti fino al ritorno di Demir. Betul risponde affermando di pregare ogni giorno per il ritorno di Demir, riconoscendo la grande responsabilità che le è stata affidata. Nonostante la sua esperienza nella gestione aziendale, teme che a Kukurova possano non rispettarla a causa della sua giovane età. Fikret la rassicura, offrendosi e assicurandole che lui e lo zio sono a sua disposizione. Betul menziona molte proprietà di Demir che deve visitare, e Fikret si offre di accompagnarla. Accetta con entusiasmo, chiedendo se possono iniziare subito. Dopo la visita a un aranceto, Fikret invita Betul a cena in un ristorante elegante. Durante la cena, parlano amabilmente. Betul, esprimendo la sua solitudine, ringrazia Fikret per la sua vicinanza e gli chiede della sua vita in Germania e del motivo del suo ritorno a Kukurova. Fikret rivela di essere tornato per vendicarsi di Demir, ma le spiega che le cose sono cambiate, diventando invece fratelli. Ora, l'unico desiderio di Fikret è poter riabbracciare Demir. Betul afferma che, nonostante Demir sia un uomo difficile e maleducato, ha un buon cuore e le è grata perché grazie a lui ha potuto studiare a Parigi. Fikret le rivela di essere suo cugino, essendo la nipote di Adnan. Hakan si trova dal barbiere del paese, al quale risponde che è un sarto quando gli viene chiesto da dove venga. Quando cerca di pagare il barbiere, questi rifiuta il pagamento, dichiarando che è una buona azione per la signora Zuleya. Nonostante ciò, Hakan lascia comunque del denaro. Uscito dal negozio, il barbiere si accorge della generosa somma e il suo assistente gli chiede chi sia quell'uomo. Poco dopo che Hakan ha lasciato il luogo, incontra Zuleya, che lo riconosce e gli esprime gratisamente. per l'aiuto ricevuto. Mentre iniziano a parlare, Kadir suona il claxon per attirare l'attenzione e si chiede cosa stia facendo Hakan con lei. Quando Hakan nota Kadir, lo saluta frettolosamente e si allontana. Kadir raggiunge Zuleya e le racconta che Hakan le ha lasciato un'ottima impressione con il suo aiuto e che sarà facile manovrarla. La sera cala, e la villa di Zuleya è pervasa da una crescente tristezza. Zuleya è tormentata dall'incertezza su dove si trovi Demir. Fikret la raggiunge e, vedendola così afflitta, le consiglia di parlare con lui. Piangendo, Zuleya confessa di essere tormentata da un brutto presentimento mentre spera che Demir torni. Fikret la rassicura, assicurandole che Demir tornerà e le promette che, nel frattempo, lui, Ficheli e la zia non la lasceranno mai sola. Le consiglia di non perdere la speranza, poiché stanno cercando Demir ovunque e lo troveranno. Successivamente, la invita a unirsi a lui in giardino, dove si trovano Luce e Ficheli, intenti a discutere dei pettegolezzi su di loro. Zuleya li invita a cena, ma Ficheli porta via rapidamente Fikret, informandolo che devono recarsi urgentemente in azienda. La sera stessa, Betul torna a casa e condivide con Sermi la gioia di aver trascorso una giornata meravigliosa. Mostra il regalo di Fikret, una penna con la punta d'oro, spiegando che gliel'ha regalata in segno di gratitudine per aver salvato Kerem. Betul racconta di aver trascorso il giorno con Fikret, visionando le proposte di Demir e pranzando insieme. Fikret le ha assicurato che sarà sempre al suo fianco. Sermin suggerisce che è evidente che a Betul piaccia molto Fikret, e Betul spiega che gli ha confidato di sentirsi sola e carica di responsabilità. Sermin le consiglia di assicurarsi che Fikret non ostacoli i loro piani per appropriarsi dell'azienda. Betul, con fiducia, le risponde che Demir non tornerà, poiché chi l'ha rapito lo ha già ucciso. Sermin ipotizza che Demir potrebbe essere scappato, ma Betul ribatte che in tal caso avrebbe chiamato Zuleya per tranquillizzarla. Le assicura di non preoccuparsi, poiché presto avranno accesso alle ricchezze di Demir e Fecheli, invitandola a iniziare a pensare a come spendere quei soldi. Sermin, sorridendo, la congratula per la felicità acquisita. Fikret è seduto in macchina con Fecheli, chiedendosi il motivo per cui si stiano dirigendo verso l'azienda. Fecheli spiega che stanno invece andando alla casa estiva per evitare che Zuleya riceva ulteriori offese. Fikret, perplesso, domanda il motivo di tanto astio. Fecheli racconta di insinuazioni vergognose e maligne che vengono fatte mentre loro cercano di aiutare Zuleya alla villa. Fikret chiede se queste insinuazioni coinvolgano lui e Zuleya. Fecheli conferma e Fikret obietta che Zuleya è la moglie di suo fratello. Fecheli risponde che non sono cresciuti insieme e fino a poco tempo prima si odiavano. Pertanto, la gente parla male di loro e devono evitare di dargli motivo. Fecheli spiega che vivranno nella casa estiva per evitare ulteriori chiacchiere. Il giorno successivo, Sadie arriva alla villa e Zuleya lo abbraccia ringraziandolo. Lui le chiede come sta, e Zuleya confessa di riuscire a stare in piedi solo per i bambini. Sadie le rivela che l'acquirente delle azioni non è Akan Gumusoglu, ma non è riuscito a individuare chi sia, dato che ci sono molti uomini da fare con quel nome. Assicura che lo scoprirà presto. Zuleya chiede poi se ha notizie di Demir. Sadie risponde che non risulta sia espatriato e che non lo ha trovato né in ospedale né in obitorio. Pertanto, sia vivo che morto, Demir è ancora a Kukurova. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!